Benvenuti benvenuti cari amici, siamo Bit di questo nuovo video Naturalmente come sempre ricordo di suggerire il like, di iscrivervi il canale, di iscrivervi anche nei telegram In tantissime avete chiesto informazioni per quanto riguarda Paddle Inu, questo nuovo meme E' appena stata lanciata da pre-sale, per cui andrò a vedere il tutto E vorrei fare un importante e doveroso disclaimer Questo meme non serve letteralmente a nulla E per cui iniziamo subito Per cui andiamo a vedere subito Paddle Inu, questo meme token C'è una nuova pre-sale per cui tantissimi avete chiesto Andrò a recensirvela Vi dico subito che è un cane che non serve letteralmente a nulla Vi lascio come sempre sotto il link di iscrizione Se volete andare a visionare questo progetto, ovviamente come sempre girano tantissimi scam Così siete sicuri che sia l'unico head originale E per cui andiamo a vedere cos'è Paddle Inu Allora, esattamente tra un giorno e 13 ore Il prezzo andrà a aumentare Per una pre-sale molto piccola Sono stati raccolti 164 mila dollari Quindi, insomma, hanno letteralmente appena iniziato E il prezzo di un Paddle in questo momento è di 0.000 214 è acquistabile o attraverso Ethereum o attraverso USDT o attraverso carta Tra l'altro vedo che è possibile anche acquistarlo su BNB E in futuro che andranno a lanciarlo inizialmente sui DEX Quello che non mi piace, ci tengo a dirvelo È questa ricompensa 3.251% di API in questo momento Però abbiamo visto che, come già in passato, alcuni meme Avevano API devastanti Poi li sono andati a diminuire E imburranno, ok, letteralmente scopriano Quindi non so se sarà il caso di Paddle, ok Però, insomma, può succedere qualcosina Io vi dico a me Come meme non è Kimigasi Ok, in questa fase di mercato Però in dati se mi avete chiesto e di conseguenza ho deciso di rispondere Dopodiché Che cosa ci dicono all'interno di questa Prese che tra l'altro vediamo questo barboncino Che è veramente assurdo C'è che il prezzo potrebbe arrivare addirittura a 0.25 centesimi Ora, il fatto che il prezzo arrivi a 0.25 Partendo da 3.0 davanti Direi che sarebbe praticamente un Uashibainu Che meglio auguro, magari Però la vedo dura Visto i nuovi meme Ok, che sono nati Ne sono nati tantissimi Però vedremo anche il marketing Quanti ne andranno a parlare Ok, come vedete Io di solito in Italia Sono tra i primi a parlarne Ovviamente questo che cosa implica Che purrimo Non so, né così finanziere Né così trading Ma il tutto Implica grossi rischi Quindi mi raccomando Fate sempre le scelte In maniera ponderata Mi raccomando Anche nel gruppo Cowboy Quando facevamo scelte Sempre in maniera ponderata Che non si va all'in su queste coin Ve lo dico subito C'è chiaro Poi In modo semplice Ok, praticamente non dico nulla Ok, su questo progetto È possibile acquistarlo O attraverso ovviamente Metamask È possibile mettere in staking E successivamente Ok, riceverà dei awards In Paddle Inu Dopodichè volevo vedere Come è la Tokenomics Tokenomics direi Oramai classica 50% per quanto riguarda Pre vendita Pre sale 30% per quanto riguarda La ricompensa In staking 10% che andrà Ne a pull Ok, di Dex Quindi verrà Penso lanciata Prattamente Su Uniswap È 10% Per quanto riguarda Il marketing Questa sarà letteralmente La Tokenomics La gestione Ok Ovviamente La raccolta Della pre sale E Attualmente Siamo nella fase 1 Fase 1 Che prevede Per l'appunto La pre sale La possibilità Ok, poi Di mettere I paddling Staking E Successivamente Ok, ovviamente Ci saranno Inizieranno Le ricompense Per lo Staking Infine Fase 3 Addirittura Lo chiamano Culto Ok, costruendo Il culto Della coin Praticamente Come fece Shiba Ok, se vi ricordate I tempi Shibismo Unica religione Vogliono Riuscire a fare Un qualcosa Simile Ora io la vedo Dura Però mai dire Mai Ok, però la community Non è forte Da no Poi vederla Però insomma Chi prima arriva Meglio alloggia Se la coin parte Ok, sempre Con i sei davanti Dopodiché Tra l'altro Vedete Potete anche Chattare con il bot Se avete domande Curioso sta cosa E voglio mostrarvi Quello che loro Twitter Ok, perché Al momento Hanno 430 follower Che sono pochissimi Però insomma Persona coin Che è stata lanciata Veramente da pochissimo Vedete qui Direi qualche giorno Che i primi tweet Sono arrivati Qualche giorno fa Esattamente Il 15 di febbraio Direi Non è malissimo Che comunque In sei giorni Ho fatto 400 follower Quindi comunque Sono follower Autentici Vi ricordo Che se volete Potete anche andare Su Telegram Seguirli Vedere quelle che sono Comunque L'interazione Interna del gruppo E volevo concludere Andando a vedere Dove si potrebbe Posizionare Podl Inu Al momento Con una raccolta Veramente piccola Abbiamo detto Di 160 mila dollari Che vorrei Mostrarvelo Secondo me La capitalizzazione Sarà Letteralmente Intorno a un milione Quindi veramente Abbiamo una coin Iper mega piccola Ok E potrebbe essere interessante Ok Voluta Lo avete qui All'interno del settore meme Praticamente sotto un milione Su coin gecko Troviamo pochissima roba Ok Guardate qui C'è veramente Il nulla cosmico Quindi può essere Quella coin Che magari anche con 10 Barra 50 dollari Può far fare Veramente Tanti soldi Come al contrario Vedi potrà fare Letteralmente perdere Perché Rischio di rendimento Per quanto riguarda Questo token È Iper Mega Alto E per cui Se vi è piaciuto questo video Ti ricordo di Di suggerire il like Di iscrivervi al canale E noi Ci vediamo Presto Hasta la vista Ombre